Una buona serata a tutti i televisioni. Buongiorno a tutti i telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Prima di tutto buon anno a tutti i nostri telespettatori perché questa è la prima edizione del 2021, speriamo che possa andare meglio di come è stato il 2020. E prima di iniziare vi ricordo come di consueto i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Trovate qua in sovrimpressione il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, www.chiocciolarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, potete inviarci video, potete inviarci dei semplici messaggi di testo oppure dei messaggi audio, dei vocali per quanto riguarda WhatsApp. Ma iniziamo subito con la prima notizia che riguarda l'emergenza coronavirus, perché da sabato 16 gennaio a giovedì 23 sarà possibile effettuare il tampone rapido presso il Palavitre di Montecchio per tutti i cittadini di Vallefoglia, Montelabate, Tavuglia, Petriano e Monte Calvi in Foglia. Con questo screening di massa, completamente gratuito, si prosegue con la campagna della Regione Marche per continuare il monitoraggio dei cittadini. Sì, penso che sia una grande opportunità. Io voglio ringraziare anche i cittadini della mia città perché sono in calo i contagi, quindi vuol dire che sono stati molto attenti in questi ultimi dieci giorni. Occorre però fare questo tampone di massa per capire se e quanti sono, diciamo, coloro che potrebbero infettare altre persone e che invece se sono contagiati devono stare a casa e poter evitare di fare altri ricoveri ospedalieri di altri defunti e così via. Quindi dal 16 al 21 in tutta quell'area al Palavitri che è a fianco del campo sportivo e alla scuola in via Guidi, numero 3, è importante perché Vallefoglia, Montelabate, Petriano, Monte Calvi e la parte bassa del Comune di Tavuglia, possono fare, io spero tutti o comunque gran parte dei cittadini che vanno a fare il tampone e ci aiutano a evitare che si allarghi, diciamo, il contagio. Ecco, devo dire che la gente ultimamente sta attenta. Ovviamente tutti aspettiamo che dopo i tamponi di massa arrivi il vaccino e in questa competizione fra coloro che producono i vaccini speriamo di poter fare tutto il vaccino entro la fine dell'estate e non entro l'anno e questo è auspicabile perché dobbiamo riprendere tutti a lavorare, noi puntiamo alla piena occupazione, benessere, salute, la salute viene sempre al primo posto e però se c'è lavoro c'è anche la salute e viceversa. Quindi l'appello che faccio è che veramente vadano tutti in massa dal mattino alle 8, alle 13, il pomeriggio e sera e l'ultimo giorno fino alle 13, il 21, che è l'ultimo giorno utile. È uno strumento molto efficace da questo punto di vista qui per identificare le persone che sono portatori del virus però sono asintomatici e in qualche modo limitare la diffusione dell'infezione. Noi ci auguriamo che ci sia una forte partecipazione da parte della popolazione perché comunque è un senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità. Abbiamo cercato di favorire al massimo anche l'organizzazione proprio per evitare il disagio ai cittadini e a questa iniziativa collaborano anche molte delle associazioni di volontariato del nostro territorio. L'importante è che, come ho avuto occasione di ribadire anche in altri casi, nel momento in cui l'esito sia negativo, questo comunque non porti ad allentare tutte quelle che sono le precauzioni che invece comunque vanno messe in atto per evitare il diffondersi dell'infezione perché la negatività comunque è limitata al momento in cui si fa l'esame e quindi comunque va continuato nel tempo a mantenere tutte le precauzioni possibili. Ed un tema molto discusso e sentito che riguarda la città di Vallefoglia in questi ultimi mesi è stato quello delle biodigestore. L'associazione Diversamente, proprio in merito a questo tema, ha consegnato ufficialmente qualche giorno fa le prime 2000 firme appartenenti ai cittadini contrari alla realizzazione di questo tipo di impianto a Talacchio. Vediamo il servizio. Siamo venuti a Sant'Angelo in Lissola, alla sede del comune di Vallefoglia, per consegnare il primo plico con 2000 firme raccolte grazie alla collaborazione di tutti gli associati dell'associazione Diversamente che è stata creata il 22 ottobre. Continueremo il nostro impegno nella raccolta sia online che la raccolta cartacea. Questa è la seconda azione che facciamo nel 2021. Il 2 di gennaio abbiamo consegnato in provincia le nostre osservazioni all'istanza presentata il 18 di novembre 2020 da Green Factory per la verifica di assoggettabilità a via, alla valutazione di impatto ambientale. Abbiamo chiesto che venga dichiarata la non procedibilità in via principale in quanto non c'è il rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti. Nel caso non dovesse essere dichiarata la non procedibilità abbiamo anche chiesto che almeno venga dichiarata la assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale perché crediamo che questo procedimento possa unire o creare la sintesi tra gli interessi pubblici e privati in modo efficace ed efficiente e soprattutto garantire trasparenza e pubblicità. Come anche nel precedente intervento che ho fatto davanti alla provincia vorrei a nome dell'associazione nuovamente chiedere agli amministratori del Comune di Vallefoglia che cosa intendono fare nella conferenza di servizi quale sarà la posizione ufficiale degli amministratori visto anche che il Consiglio Comunale di Tavuglia ha dichiarato la propria contrarietà in maniera unitaria minoranza e maggioranza alla localizzazione del biodigestore a talacchio di Vallefoglia chiediamo quindi nuovamente che si esprima all'amministrazione di Vallefoglia e che faccia sapere alle migliaia di cittadini che hanno aderito alla nostra raccolta firme qual è la posizione e come intendono tutelare tutti i cittadini del Comune. Un'ultimissima cosa, hai parlato di una prima tranche di 2.000 firme questo vuol dire che ce ne sono altre, la raccolta continua, tanti cittadini hanno risposto. Sì, nei prossimi giorni porteremo ancora migliaia di firme che già abbiamo e che continuiamo a raccogliere le presenteremo anche in provincia, stiamo valutando l'opportunità di presentarle anche in altre sedi crediamo che la nostra opposizione vada manifestata in tutte le sedi opportune a garantirci una visibilità e soprattutto che ci venga manifestato un interesse cosa che oggi non riscontriamo dai nostri amministratori. Ma quello delle biodigestore non è soltanto un argomento che riguarda la città di Vallefoglia ma bensì anche la vicina Tavuglia. Su questo fronte la consigliera comunale di minoranza Cristina Cannas è intervenuta per spiegarci meglio che cosa è stato inviato all'amministrazione provinciale proprio per ottenere maggiori informazioni relativamente a questo progetto. Io e la collega Roberta Di Stefani che facciamo parte nello specifico di due diversi gruppi consigliari di minoranza all'interno del Comune di Tavuglia abbiamo presentato lo scorso 2 di gennaio un documento contenente una serie di osservazioni di carattere tecnico ambientale e anche considerazioni politiche dato il ruolo che ci compete alla provincia e abbiamo ritenuto di farlo doverosamente per coerenza insomma coerentemente col deliberato del Consiglio Comunale di Tavuglia nella seduta dello scorso 22 di dicembre. Si sono discusse infatti due diverse emozioni una da noi presentata e una presentata da tre colleghe di maggioranza tutte e due sul tema biodigestore e per tutte e due il Consiglio ha votato all'unanimità la contrarietà alla realizzazione del biodigestore in località Talacchio di Vallefoglia. Ci aspettavamo insomma che queste due delibere avessero un seguito quindi una presa di posizione ci aspettavamo da parte dell'amministrazione comunale di essere coinvolte nella stesura di un documento congiunto tra minoranze e opposizione abbiamo aspettato fino all'ultimo giorno utile non essendo stato contattate da nessuno abbiamo proceduto insomma per conto nostro con questo con la presentazione di questo documento abbiamo voluto sottolineare due cose da un lato la grave inadempienza di un organo che è l'ATA che avrebbe dovuto insomma per quelle che sono le sue competenze che è stata creata appositamente per uno scopo cioè redigere e approvare un piano d'ambito che avrebbe dovuto contenere quelle che sono gli opportuni indirizzi per la localizzazione ma anche per la gestione integrata dei rifiuti nella nostra provincia e l'inadempienza di ATA ha di fatto prodotto un vuoto che è stato diciamo così riempito dall'iniziativa privata che ha potuto tra virgolette agire indisturbata e presentare un progetto come quello che ha presentato che è diciamo palesemente sovradimensionato rispetto a quelle che sono le esigenze di smaltimento reali della nostra provincia perché a fronte di una produzione annua di intorno ai 60.000 tonnellate di rifiuti della frazione organica qui si sta progettando che si vuole costruire un impianto con una capienza di 105.000 tonnellate quindi è evidente in questo caso che per il soggetto gestore i rifiuti diventano una necessità, una risorsa e che per far lavorare questo impianto a pieno regime i rifiuti saranno importati conferiti a pagamento da altre province e da altre regioni dall'altro lato abbiamo voluto sottolineare che la digestione anaerobica non è un processo naturale ma è un processo che prevede dei processi industriali che sicuramente non rientrano nel concetto della tanto decantata economia circolare cioè la digestione anaerobica è finalizzata alla produzione di energia elettrica attraverso la combustione se c'è combustione per forza c'è inquinamento quindi non è un impianto a impatto zero lo stesso digestato che è il prodotto della biodigestione per poter essere utilizzato in agricoltura come compost ha bisogno di un successivo e ulteriore trattamento di tipo aerobico quindi sicuramente non è il sistema più pulito e infatti la normativa europea lo descrive come scelta di secondo livello rispetto a un impianto di compostaggio aerobico tutto qui insomma ci sembrava giusto che la gente sapesse che comunque ci sono persone che hanno rivestito dei ruoli apicali all'interno dell'amministrazione provinciale che non hanno adempiuto quelle che erano le loro competenze attribuite dalla legge regionale faccio un nome per tutti visto che sono di Tavuglia lo stesso sindaco di Tavuglia è stato mi pare fino a giugno del 2019 consigliere provinciale con delega proprio alla gestione dei rifiuti e non ho notizia che abbia fatto qualcosa di particolarmente incisivo su questo argomento vogliamo anche dire che l'attuale presidente di Marche Multiservizi Daniele Tagliolini è stato fino a poco tempo fa presidente di ATA in qualità di presidente della provincia quindi voglio dire ci sono nomi e cognomi di persone che avrebbero dovuto adempiere e non l'hanno fatto Per quanto riguarda in breve anche un po' il parere dei cittadini in tanti hanno iniziato anche a raccogliere delle firme contrarie nella speranza poi che possano essere ascoltati Io penso che questo sia il nostro ruolo di amministrazione pubblica sia proprio questo, ascoltare i cittadini che rappresentiamo quindi se i cittadini di questo territorio, tra l'altro la motivazione che è stata più a volte espressa dal sindaco di Tavuglia che io condivido assolutamente così come la collega Di Stefani tanto è vero che la nostra mozione era proprio per dar sostegno alle rivendicazioni del sindaco e che il comune di Tavuglia è già fortemente provato dalla presenza di un impianto di una discarica e di un futuro impianto di TMB e quindi se i cittadini non vogliono, perché sono giustamente anche preoccupati perché non sono stati adeguatamente coinvolti e informati se i cittadini non vogliono questo impianto a ridosso del nostro territorio penso che il nostro dovere sia di ascoltare i nostri cittadini Edile Comune di Vallefoglia, nella giunta comunale tenutosi proprio questa settimana ha comunicato di aver aderito alla piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione denominata Io Lo scopo di tutto ciò è quello di rendere più semplice l'interazione tra i cittadini e i servizi della pubblica amministrazione L'utente, attraverso la piattaforma Io, potrà ricevere comunicazioni e aggiornamenti ottenere e gestire documenti, ricordarsi e gestire le scadenze effettuare pagamenti digitali ed eleggere il proprio domicilio digitale L'utilizzo di questa piattaforma, che è stata resa fruibile in maniera gratuita a partire ad aprile 2020, porterà il vantaggio di snellire la burocrazia e facilitare l'accessibilità ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione E in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo c'è anche chi ha deciso di investire nuove risorse sulle territorio E le case del Caffè della Fortuna, che con il suo titolare Luca Mancini dopo il locale a Morciola, raddoppia con una nuova avventura a Montecchio In questo periodo, che è molto complicato, è passata questa opportunità e abbiamo deciso di prenderla Sono quei treni che passano una volta nella vita e bisogna avere il coraggio di prenderla anche se in un periodo difficilissimo Il secondo Caffè della Fortuna è qui a Montecchio Abbiamo rilevato un'attività di due amici, una coppia di amici che ha dieci anni di attività Loro hanno smesso e ho deciso di prenderla e raddoppiare il Caffè della Fortuna Lavori in corso per l'apertura che si terrà a brevissimo? Abbiamo corso molto, tutte le feste tempi brevissimi La partenza è prevista per lunedì 18 alla mattina alle 5 Purtroppo non possiamo fare l'inaugurazione visto il periodo e sicuramente non è il momento però dobbiamo partire perché il bar deve ritornare a regime L'inaugurazione avremo tempi migliori per farla Esattamente, hai parlato tu, visto il periodo cosa ti hanno detto gli amici quando sei tornato? Hai detto, apri un altro bar Eh, hanno girato, è un mandato del matto la maggior parte Poi dopo ragionandoci bene l'opportunità era buona e bisognava prenderla anche se ci voleva coraggio Un'opportunità che hai colto al volo Parliamo un attimo invece del periodo con l'attività che hai già avviato ovvero quella del Caffè della Fortuna di Morciola Teniamo qui sempre lo stesso nome È stato il periodo adesso dove hai potuto lavorare in maniera continuativa questa settimana vista la zona zalla permanente? Abbiamo lavorato, sì, in maniera continuativa abbiamo sempre lavorato con l'asporto ci siamo dovuti rinventare su nuovi metodi di lavoro abbiamo inventato un asporto diverso abbiamo portato tanta roba a casa della gente abbiamo lavorato tanto ma abbiamo potuto superare questo periodo difficile Ti fermi a due o potrebbe esserci in futuro anche qualche altra idea? Mai mettere limiti adesso siamo a due poi vedremo cosa ci porta e a proposito di nuovi progetti il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli ha richiesto proprio in questi giorni la collaborazione dell'Università di Urbino per la realizzazione di un polo tecnologico a Morciola nella zona della Cantina Sociale dei Colli Pesaresi un polo tecnologico finalizzato soprattutto per il coordinamento dei produttori dell'intera vallata del Foglia alla commercializzazione dei prodotti tipici locali alla ricerca di tecniche innovative nel settore agricolo e al monitoraggio ambientale in particolare il Comune di Vallefoglia si è rivolto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura per richiedere un monitoraggio ambientale dell'inquinamento atmosferico e delle acque alla Facoltà di Farmacologia e EZENE per quanto riguarda il controllo degli alimenti e la salute delle persone e alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e del Governo per quanto concerne più direttamente gli aspetti amministrativi e di guida per gli imprenditori agricoli ed un aiuto economico alle famiglie più in difficoltà è quello che intende dare il Comune di Vallefoglia con la concessione dei buoni spesa dalle prossime lunedì, il 18 di gennaio sarà nuovamente possibile farne richiesta l'assessore alle politiche sanitarie e sociali, Daniela Ceroni si spiega nel dettaglio come poter effettuare la domanda e dei termini entro il quale è possibile abbiamo riaperto, riapriremo lunedì prossimo al 18 e starà aperto fino al 22 quindi fino a venerdì della settimana prossima il bando per aderire alla richiesta di buoni spesa per i beni di prima necessità e per le persone in qualche modo danneggiate economicamente dalla crisi conseguente alla pandemia e quindi soprattutto per le famiglie abbiamo già distribuito più di 100.000 euro che ci sono stati assegnati dallo Stato con il primo bando una cifra superiore ai due terzi quindi abbiamo riaperto i termini del bando per ridistribuire circa 30.000 euro che abbiamo ancora a disposizione chiaramente le persone che faranno richiesta saranno quelle che non hanno usufruito nel buono con il primo bando quindi sono praticamente gli esclusi tenuto conto che abbiamo avuto anche dei problemi relativi alla consegna materiale delle domande legate ai problemi di invio con la posta elettronica e ci rivolgiamo appunto a queste persone che non sono state in grado nel primo bando di aderire e anche a chi si trova nelle condizioni di poterlo fare le domande questa volta saranno presentate sempre via mail al protocollo ma ci sarà la possibilità di presentarle anche alla mail dei servizi sociali e in alcuni casi quando è particolarmente difficile per le famiglie anche manualmente ai nostri uffici quindi abbiamo cercato di favorire al massimo l'adesione delle persone Per quanto riguarda questi buoni in che maniera si possono usufruire? Per quanto riguarda la parte di buoni già assegnati che sono come dicevo appunto attorno ai 60.000 euro e vengono consegnati alle famiglie che ne hanno diritto delle tessere delle carte tipo carte tessera prepagate con le quali possono rivolgersi nei negozi che sono convenzionati quindi tutti i generi alimentari della zona i supermercati le farmacie e tutti i negozi i cui prodotti rientrano nella categoria spendibile con i buoni chiaramente questo ha un doppio effetto intanto il negoziante è favorito perché viene subito accreditata la cifra e non ha bisogno di un ulteriore passaggio per richiedere il rimborso c'è una maneggevolezza per quanto riguarda le persone che ne hanno bisogno e cerchiamo anche in qualche modo di favorire anche i piccoli negozi di genere alimentare del nostro territorio quindi ci sembra comunque un meccanismo molto positivo di distribuzione di queste risorse e ora concludiamo parlando di sport nelle campionate di serie 2 di volley femminile dopo la sosta natalizia la Megabox Vallefoglia torna in campo nella delicata trasferta contro la Balducci Macerata la squadra allenata da coach Fabio Bonafede ha allenato di tutti i recuperi che sono stati giocati dalle avversarie e prima in classifica nelle girone este con le 32 punti la principale rivale della Megabox resta Cutrofiano seconda a tre lunghezze di distanza ma che ha iniziato il nuovo anno con due sconfitti nei recuperi delle giornate precedenti leggermente più distaccati invece Soverato che terzi ne classifica ma con ben 8 punti di svantaggio e termina qua questa nuova edizione delle Vallefoglie Magazine io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi qua su Rossini TV vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo e vi auguro una buona serata grazie a tutti i dati -a--- Grazie a tutti.